Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo decimo episodio della Challenge Lock a Pokémon Heart Gold. Ragazzi, nello scorso episodio siamo andati verso Fiorlisopoli per ottenere la pozione segreta dimenticandoci che effettivamente non potevamo ancora ottenerla e quindi per ripiegare un pochino l'episodio abbiamo sconfitto Eugenius che si è spacciato per Dio e quindi è diventato l'eretico e poi abbiamo battuto la palestra di Furio. Ragazzi, prima di iniziare vi ricordo, cioè vi ricordo Dio, vi dico che lo scorso episodio purtroppo non è andato in feed quindi mi raccomando se ve lo siete perso andatelo a ricercare tra i video del canale perché l'ho caricato, poi la gente mi dice che non carico la Challenge Lock. Tra l'altro, un'altra cosa, mi avete detto di caricarla più spesso, vedrò di accontentarvi. Comunque ragazzi, la Challenge di oggi è molto particolare e secondo me ci sarà veramente da ridere perché si tratta, in parole povere, di una Challenge nella quale il Pokémon verrà considerato morto solo nel momento in cui arriverà a vita rossa. Vuol dire che se il Pokémon muore va benissimo, lo posso andare a curare, ma se arriva a vita rossa verrà considerato morto. Il che ovviamente è uno svantaggio perché è molto più probabile che un Pokémon arrivi a vita rossa piuttosto che vedere un Pokémon morire. Comunque, oggi andremo ad esplorare il faro di Olivinopoli e poi batteremo la palestra di Jasmine. Tra l'altro, ragazzi, non il Poké Gear. Tra l'altro, ragazzi, vi volevo dire anche che ho allenato Barry fino al livello 29. Avete già visto il soprannome che avevo dato a Brazzerina. Perfetto, la gente è andata a cercare cosa vuol dire, forse non avrebbe dovuto. Non fatelo, ragazzi, non fatelo. E nulla, direi che possiamo entrare nel faro. Mi raccomando, ragazzi, lasciate un bel mi piace per sostenere, come al solito, questa serie. Ed eccoci qua, all'interno del faro. Tra l'altro, io non sento tantissimo la musica, però non dovrebbe essere un problema. Dovrebbe essere legato, diciamo, alle cuffie. Ora, non sta laggando, vero? È normale che vada così, penso di sì. Ecco qua il primo gentleman da affrontare, ragazzi. Che fai qui? Questo non è il luogo adatto per giocare. Tra l'altro, ragazzi, mi raccomando, rispondete anche alla domanda del giorno che trovate qua sotto. Sto utilizzando un metodo di registrazione... Veronica, sì. Sì, Veronica, ma proprio lei. Dicevo, sto utilizzando un metodo di registrazione particolare che mi ha spiegato il Rochett, chissà perché, proprio lui. E nulla, spero che non ci siano particolari problemi. Io noto con piacere che il gioco lagga e non capisco il motivo, sinceramente. Allora, fermi. Mi sto già cagando addosso per sta challenge. Mi sto cagando letteralmente addosso. Non penso sia normale che lagghi, anche perché, ragazzi, ve l'avevo già detto forse, ma c'è stato un problema col computer. L'ho dovuto rinizializzare e quindi deve un po' riprendersi. Magari ci saranno dei momentini di lag, ma non penso che siano così gravi, anche perché in questo momento, ad esempio, non sta laggando. Ora, io non voglio assolutamente rischiare... Raghi, io ce l'ho, devo sclerare. Io ho già capito che veramente devo impazzire male. Mettiamo davanti Barry così lo proviamo subito. Speriamo che non vada vita rossa a sto punto perché altrimenti lo si considera morto. Ai, mi raccomando, continuate a consigliarmi delle challenge per il futuro. Perché ne vedo sempre di migliori, ma prima o poi finiscono. Quindi non vi fermate mai, osteria. Provo però a livello 18, ok. Il faro, ragazzi, avrei dovuto farlo prima e quindi questa cosa qua gioca a nostro vantaggio. Ok, proviamo una forza sfera. Devo rimuovergli la forza sfera perché questo Pokémon è un attaccante fisico. Forza sfera, cioè, c'entra proprio come l'Ananas con la pizza, proprio zero. Comunque l'abbiamo andato giù perché siamo a un livello decisamente alto. Tra l'altro avrete... Donna. Donna chef. Vabbè, qua ci sta... No, nulla. Cioè, ci sarebbero battute un po' sessiste, però non le faccio perché la gente si offende. Poi ovviamente... Questo si chiama... È una sorta di black humor, quindi io non le penso davvero le cose che dico. Anche quando faccio battute diverse, no? Perché poi la gente si offende, no? Invece, no, è semplicemente black humor. Vuol dire fare dell'umore su delle cose che... Sono abbastanza, diciamo, serie o comunque... Non sarebbero tecnicamente da ironia, però... Vabbè, dettagli. Perché sto parlando di black humor in un gioco Pokémon? Spiegatemi. Affrontiamo questo avvicoltore che si è camperato qua nella speranza di beccare Creepy Story e di fargli perdere la Nuzlocke. Dudley Boss. Oddio, Dudley cos'era? Tipo il... Il... Cugino di Harry Potter, una roba del genere. Non mi ricordo se si chiamava effettivamente Dudley, sapete? Comunque, sporco lancio di Blur. Che tra l'altro, ragazzi, non evolveremo mai perché io sto ancora cercando una pietra lunare dall'alba dei tempi di Cristo e non la riesco a trovare. Grande Blur che... Tra l'altro Blur e Cristo proprio... Azzeccatissimo, mi dicono. La Prevodi di Torch. Attenzione. Muore anche lui, perfetto. Zubat. Perché mi va via la voce così dal nulla. A casa anche lui, ok, perfetto. Blur li sta seccando tutti. Ecco, Machamp, ad esempio, invece, potrebbe essere un problema. Ma invece Blur... Ma... Che fa... Oddio, Spinda! Ho citato Rochette un minuto e mezzo fa. Forse è venuto fuori Spinda, ragazzi. Mamma mia. Dovete sapere che Rochette e Spinda sono legati da... Da un legame indissolubile. Ciao Luke, se ci stai seguendo nel frattempo. Ok, proviamo a mettere davanti Strength, ragazzi. Io devo cercare di non mandare in campo Pokémon con poca vita. Perché altrimenti è un problema serio. Io ho paura. Per Jasmine io mi sto cagando addosso. Mi sto letteralmente cagando. Joe Tamer. Cioè, Joe... Cioè, io in pratica. Cioè, Joe 97, no? Non so se... Ciao Joe nel frattempo. Allora, calma. Tre tartigli. Vediamo se lo riesco a mandare giù quasi. Aeroasoyo non dovrebbe farmi troppo. Ok, perfetto. Aeroas... Tanto mi hai detto che c'hai la mamma bigola. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Magby. Ok, allora. Per ora io non voglio gufarmela. Non voglio gufarmela. Ma per ora... Diciamo che sta andando tutto al contrario di male. Semi citando qualche telecronista dal nulla. Od... No, aspettate. Ah, è vero. Bisognava buttarsi giù tipo dalle finestre come dei pazzi scalmanati. Cioè, giustamente no? Perché tu devi salire su un faro come una persona normale. E ti butti giù dalle finestre. Cioè, uno di 50 anni deve salire sul faro e lo butti giù dalle finestre. Chiaramente. La famosa defenestrazione di Olivino a crescita. L'utilità, signori miei. Comunque poi ragazzi, finito il faro, potremo andare a prendere la pozione. Quindi faremo una rapida volata, se così si può dire, verso Olivinopoli. E... Oddio, Fiorlisopoli. E... Stavo cercando di prendere una po... Ok, perfetto. Mirino ottenuto. E arriveremo appunto a Fiorlisopoli. Prenderemo la pozione. E... Poi batteremo la palestra. Penso che poi potremo anche concludere l'episodio. Oppure, sapete cosa si potrebbe fare anche di molto carino? C'era la svendita l'IKEA di sti cosi. Spiegami. Non lo so, sono ovunque. Dicevo, eh... Dopo la palestra potremmo addirittura pensare di far la cattura al Monte Scodella. Avvicinandoci decisamente a Mogagna. Pestone su Toggepi che va giù. Ok, perfetto. Il lato positivo davvero è che abbiamo fatto tutto il percorso. Il percorso di prima... Prima. Cioè... Cioè... Sopprimetemi. E... E quindi adesso siamo di un livello decisamente più alto di quello degli allenatori. Ho letto Uccello. Che cosa mi stai nascondendo, figliolo? Un Cacnea, sì, esatto. Ok, perfetto. Tra l'altro, ragazzi, io non so perché ho sognato tempo fa della scoperta dei... Dei vasi sanguigni nei... Nei cactus. Cioè, non sto scherzando. Nel senso che ho sognato che un mio amico aveva scoperto che i cactus avevano i vasi sanguigni. Cioè, ditemi poi se uno non deve essere considerato pazzo e non deve essere mandato al manicomio. Cioè, veramente. Dopo questo bellissimo aneddoto di vita, possiamo proseguire. Perfetto. Allora, per ora la challenge non ci ha procurato nessun casino perché per fortuna siamo appunto di livello alto. Ma ragazzi, io vi ricordo che... Ecco, quello che non avrò mai. Io vi ricordo, ragazzi... Vi ricordo che... Jasmine ha il Pokémon migliore, ha il fottuto 35. Non so se mi spiego. Livello 35 vuol dire che... No, aspettate. No. Ok, ok. Allora, sarebbe stato un problema perché con l'avvelenamento avrei potuto arrivare con il... Con Fuji a vita rossa e sarebbe morto. Cioè, che potenzialmente sarebbe potuto anche morire. Ah, ovviamente, ragazzi. Se il Pokémon arriva a vita rossa e poi muore dopo per qualche motivo, ovviamente è considerato morto perché la vita rossa... Cioè, il momento in cui ha avuto fissa la vita rossa è avvenuto, insomma. Allora, chi ha full vita? Chi ha full vita? Chi ha full vita? Eh, direi Blur. Tra l'altro, sì, ho allenato un pochino anche gli altri Pokémon perché così avevo poco da fare. Stavo aspettando una persona a caso su Discord e mi sono messo ad allenare i Pokémon. Eccolo qua, il marinaio. Volevo lottare con Jasmine ma non è dell'umore adatto. E sai com'è? Le sta schiettando un Pokémon in braccio. Forse non è una grande idea, sapete. Jonathan Chef, attenzione, il ritorno del divino. Il divino Jonathan, proprio lui. Tra l'altro, tutti i Chef, tutti i Boss, tutti i Tamer, che non so neanche cosa voglia dire. Ok, ah, tra l'altro mi ha imparato Fangobomba, Blur. Se non sbaglio, prima aveva acido. Non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere nello scorso episodio. Vai giù, vai giù, vai giù, vai giù. Ti ho... Ok, eh, non so se va giù con l'avvelenamento, però. Dimmi che... Ok, perfetto, c'ho la Fangobomba. No, ok, non va giù. E allora, eh, muori, muorirà così, che non facciamoci troppi problemi. Eevee, perfetto. Giù anche lui, ti prego, velocemente. Tra l'altro sto registrando alle 10.22 di mattina. Quindi se c'è una voce tipo un po' gracchiante, è colpa del fatto che mi sono svegliato da relativamente poco. Nonostante io abbia già rifatto il letto. Ma questi sono... Cioè, io, mia madre. Però ogni tanto... Bacchambuta. Cioè, tu in un faro, giustamente, trovi la Bacchambuta. Oh! Siamo già arrivati. Questo piccolino illuminava il mare ogni notte, ma all'improvviso ha dato segni di cedimento e ora respira affannosamente. So che c'è una farmacia... Eh, lo so anch'io che c'è una farmacia fornitissima. Dicevano, ogni tanto il letto lo faccio anch'io, ragazzi, quando sono preso bene. O banalmente quando ho bisogno della camera subito, ho bisogno di uno sfondo accettabile per i video. Quindi mi raccomando, fatevi anche voi il letto. L'astracielo. Cioè... Cioè, l'astra nel senso del plurale di astro, quindi dei pianeti che stanno in cielo. Cioè, l'astra del cielo. Astra del cielo. Sparatemi in bocca. Mite Arceus Redentor Tu che a fior l'isopoli volerai Non so come si rispetta la metrica Lasciate un like! Devo coprire in qualche modo questi momenti vuoti di video, capito? Cioè, non è che posso stare in silenzio e non commentare Quindi devo inventarmi cazzate Andiamo a prendere sta medicina E magari ne prendiamo anche un pochino, evidentemente Abbiamo dei pericoli I tuoi pokémon sembrano in forma Ma come posso esserti utile? Mmm, come il pokémon del faro è in pericolo? No, i miei pokémon possono essere in forma Io, a quanto pare, ti assicuro che non sono in forma Ok, perfetto Abbiamo tenuto la pozione Sovvertendo gli schemi di pokémon Earth Gold E ora possiamo tornare al faro Quindi facciamolo molto velocemente Andiamo a risvegliare il pokémon di Jasminia E poi possiamo affrontarlo nella palestra Tra l'altro questa qua è una palestra molto particolare Perché sinceramente penso sia la unica Nella quale non ci sarà bisogno di affrontare alcun allenatore Cioè, oddio Gli allenatori ci sono Ma non ti affrontano Cioè, proprio palestra low budget Allora, andiamo a dare la pozione al tizio Kaio Che non se la vuole far dare da noi E gliela deve dare per forza a Jasmin Se no Vai, si Anfu, anfu Bravo Illumina, illumina le nostre vie Illuminismo Dai su, via No, ti prego, basta Non ho voglia Voglio Oh, brava Torna alla palestra Perfetto Possiamo andare ad affrontarla Sento già la puzza di merda sotto il mio culo Io ho una paura, ragazzi Che non avete idea Se gli rando Se quello Silix glielo randomizza bene Noi siamo Fottuti Balboa E Balboa C'ha Sì Perfetto Ho aperto il campo di fuggilato Non so neanche come si chiami Baoba Balboa Sparatemi Tra l'altro, raga Balboa Era un Pokémon di una Soul Link Fatta con Luke Ora non ricordo chi Proposito, no? Ok Perfetto Possiamo andare verso la palestra Di pozioni Dovrei averne Io Metto davanti Barry Allora Dovrebbe avere due Pokémon al 30 E uno al 35 Per quello al 35, raga Devo per forza utilizzare Fuji Perché penso sia l'unico che Può provare a sconfiggere un Pokémon forte al 35 Cioè, vedete Loro ti chiamano Cioè, ti beccano Voi non ti sfidano Guarda che bellezza Mi deve cagare il cazzo anche quello dopo? Oppure Sì, mi caga il cazzo anche quello dopo Spiegatemi perché questa gente deve cagare il cazzo Ok Forza Grazie per il tuo aiuto al faro Ora però mi vedrai in un'altra veste Lascia che mi presenti come si deve Sono Jasmine Capo palestra del tipo TADAAAN Acciaio Conosci il tipo acciaio? È duro Freddo È anche affilato Forte sai Davvero, eh Potrei fare la classica battuta Ma non la farò Parte la sfida di Thomas ragazzo ricco Che manda in campo Yugong Attenzione Gondolo ragazzi Chi se lo ricorda questo? Pokémon Smeraldo Con Luke Raga Luke ormai sul mio Cioè Luke ormai sul mio canale Tu sai Mi sto cagando sotto Non devo distrarmi Forza sfera Ora Questo qua è già di tipo ghiaccio Evidentemente sì Non gli ho fatto una sega Ok Questa idrondata è stab Non mi piace No Fermo Ok No Allora Qua mi fa un'altra Idrondata Mi fa Mi fa un'idrondata Mi manda a casa Mi mandava a casa diretto Quindi Allora Devo No 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 Devo Riflettere Cazzo Che cavolo faccio adesso io Allora Con calma Oh Ok Lui ha Marta il pugno Potrebbe esserci utile Proviamo Con strength Vai Grand Grandine dio Se questo qua Poni caso che a bora Sono fottuto Letteralmente Colpito dalla grandine Ok Marta il pugno Io Ti prego Mandalo giù Allora Dovrebbe essere una mossa Molto più potente Di forza Sfe Cristo Se la challenge Funzionasse anche per te Mannà No cos'è Sub Ok Fermi e sub No sub Colpisce anche i pokemon Oddio Non può ricaricarsi Questa è una gran cosa Ok Ok Fermo Fermo Ok Che culo Che culo Che abbia usato sub Se non avesse usato sub Questo si sarebbe ricaricato Sarebbe stato un problema serio Sarebbe stato un problema davvero serio Ok Il primo l'abbiamo mandato giù Abbiamo già un pokemon a vita arancione Io non oso Fermi Mantaic Allora Proviamo con brazzerina Mantaic Ok si è quella prima Individua No ti odio Allora Dovresti essere solo di tipo acqua Te non vorrei sparare una cazzata Oh Spennata Quasi giù Bollaraggio Non mi far Troppo Cazzo Oh merda Allora Calma Suocero Prova a andare tu Raga Brazzerina Purtroppo Dobbiamo farla evolvere In staraptora Più presto Perché non ce la facciamo più Minchia Quanto mi fa male Sto coso Allora Forse ho sbagliato pokemon Proviamo un taglio Individua Allora Tecnicamente A meno che non critti Non dovrebbe No Ti odio Merda 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 No Fermo Ok No Non è fattivo In sta challenge Mi sto cagando a dos Manca ancora il pokemon Con 300.000 Livelli Fermo 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 Ok Per fortuna Blur ha la fangopece Ora Fangobomba Figa Devi morire Cristo Ok Dovrebbe essere morto È morto Ok Calma Calma Non sta andando malissimo Adesso ti prego No No io ho paura Questo Ah questo qua Questo pokemon È un cazzo di incubo Ok 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 Non è acciaio Te lo assicuro Non è acciaio Dimmi Aumentami l'attacco Sì Pestone Muori Muori No figa Ok Che culo Che Culo Che culo Non ci credo Mi è andato Oh Sapete Cosa vuol dire Tutto bene Mi è andato Tutto Fottutamente Bene Non ho Non ho parole Veramente Spettacolo Ora ragazzi Ci sarà un momento Molto Molto Rievocativo Per questa Per questa serie Ma per il canale in generale Stiamo andando al monte scodella Ora Non so se vi ricordate Chi Ci è apparso Al monte scodella Per la prima volta Non so se vi ricordate Gli scleri Che tirai E il soprannome Che diedi A quel pokemon Ragazzi Controlliamo se abbiamo le pokemon Perché oggi Stiamo andando a catturare Un pokemon Nello stesso luogo In cui Un anno fa Catturammo Il divino merda Spero che ve lo ricordiate Ragazzi E nel caso Non ve lo ricordiate Vi invito assolutamente Andarvi a rivedere La soul link Perché è stata qualcosa Di spettacolare Eh Ragazzi Io Non vedo l'ora Di vedere che pokemon Ci viene fuori Vediamo Questo pokemon qua Sarà benedetto Da merda Perché ovviamente È nel suo territorio Noi sappiamo che Il tempio di merda È nascosto In qualche antro Del monte scodella Che noi non possiamo conoscere Quello che stiamo per catturare Ragazzi Sperando di riuscire a catturare A catturarlo Sarà Un suo Diciamo Sottoposto Comunque un pokemon Che tenterà di Portarci La sua voce Se viene fuori Merda Rido Ok Merda Ci ha Ci ha Graziato Ghibol è un ottimo pokemon Si evolve a casa di Cristo Ma è un ottimo pokemon Ora Missile spill Movimento sismico Tecnicamente non dovrebbe Shotarti Dovrebbe toglierti 29 ps Se non hai 29 ps È grave Ok Questo È un buon pokemon Questo qua È ottimo come riserva Ragazzi Me lo terrò davvero da parte Ultraball Chissà se riusciamo a prenderlo Lo spero davvero Uno Due Tre E Ole Preso tantissimo Ora io questa cosa qua Non so assolutamente come chiamarlo È un Ghibol femmina Vive in gallerie Scaldate dal calore geotermico Se sento un rumore È Lo addenta Ok Di cattiveria Non so proprio come chiamarlo Ragazzi Allora A me sinceramente Ha sempre ricordato Non so per quale motivo Tipo un sottomarino Per quelle due cose Che ha lì così Quindi non saprei bene Come chiamarlo Lo chiamo Allora Penso sia tipo ispirato A una sorta di Di squalo particolare Forse ha lo squalo martello Sapete Sì Penso sia lo squalo martello In effetti Sì sì Penso sia proprio lui Quindi martello È femmina purtroppo Ciò non lo chiamerei Hammer Molto banalmente Thor Potrei chiamarlo Non saprei davvero come chiamarlo Ragazzi Consigliatemi un soprannome Per Gible Qua sotto nei commenti Perché io non ho Nessuna idea Assolutamente Tanto questo video Dovrebbe uscire Questo pomeriggio Quindi Cioè Per voi è già uscito Ma per me dovrebbe uscire Questo pomeriggio Verso le 4 e mezza Quindi ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Se così vi invito Come al solito A lasciare un bel mi piace Un commento qui sotto Rispondendo alla domanda del giorno E un'iscrizione al canale Se non siete ancora iscritti Mi raccomando Altro da fare Sì La campanella in alto a destra Consigliatemi altre challenge E un soprannome per Gible E mi raccomando I social in descrizione Per rimanere sempre aggiornati Su tutte le novità del canale E anche su robe legate Alla mia vita E a vari problemi Nel caso non escono i video Di solito Io lo annuncio sempre Su Telegram O su Facebook Occasionalmente Dettoci ragazzi Noi ci becchiamo In un prossimo video O